Ciao a tutti e tutti amici di YouTube, io sono Mako e questo è Mako's Corner. Bentornati al vostro appuntamento musicale settimanale preferito. Come potete benissimo sentire dalla voce, questo video sarà in italiano, perché per chi non lo sapesse, lo scorso video che ho fatto l'ho fatto in inglese, siccome avevo un obiettivo in particolare, ovvero quello di riuscire ad arrivare alla mia cantante preferita, ovvero Kim Petras. E ragazzi, spoiler alert, ci sono riuscito, perché se appunto voi andate a vedere nei commenti dello scorso video, troverete il commento di Kim Petras, che mi dice che sono carino, che mi dice che mi ama e che mi dice che quel video le ha migliorato la vita. Cioè ragazzi, la mia testa è tipo esplosa. E seconda cosa, in quel video non vi avevo spiegato perché è cambiata la location, semplicemente ragazzi perché io per queste due settimane non sono a casa mia e quindi non potevo registrare nella Makotana. Oggi ragazzi è il 3, dovrebbe essere il 3, ed è uscito l'album remix di Cromatica dal titolo Dawn of Cromatica, ovvero l'alba di Cromatica, un vero e proprio remix album di appunto Cromatica, l'ultimissimo di Lady Gaga, che ha deciso di chiamare vari altri cantanti, vari DJ, per creare delle nuove versioni delle canzoni che troviamo in questo album. Ma prima di iniziare io vi ricordo di iscrivervi a questo bellissimo canale, mettere un bel mi piace, così sulla fiducia, e seguirmi nelle pagine social che trovate qua sotto in descrizione. La mia perplessità principale è che si trasformi in un club future nostalgia 2.0, è uno dei lavori pop più presi in giro ultimamente perché le produzioni erano piuttosto strane. Ma il fatto che ci siano queste collaborazioni in realtà molto speciali mi incuriosisce più che spaventarmi. Ragazzi direi che siamo prontissimi per cominciare. Iniziamo dalla primissima traccia, Alice, LSD XOXO Remix. Cos'è, tipo Gossip Girl sotto acidi? Ok, basso, evidente. Per adesso ci sono un paio di suoni tipo 8-bit. Sembra quasi stare giocando a un videogame. Questo synth, molto 8-bit appunto. E la base, non lo so, mi so un po' più di hip-hop, se vogliamo. Non so se mi piace o mi fa cacare, onestamente. Penso di più la seconda. Allora, cioè non era male, però appunto se pensiamo all'originale, ragazzi, Alice era una bomba dance. Questa versione la uccide, quindi forse non fa tanto per me. Andiamo avanti con la seconda traccia, Stupid Love, Cuckoo Chloy Remix. Dura, tra l'altro, molto meno della canzone originale. What? Questo sì che è un beat da club. Vogging the house down con questa. Ok, qua abbiamo ripreso la melodia originale di Stupid Love. Però mi smorza tutta l'atmosfera club di prima. E adesso me la riprende così. Ma in generale, raga, questo beat mi prende. Come remix di Stupid Love. Onestamente non si capiva neanche che era il remix di Stupid Love, se non per quella intermissione in mezzo che però mi smorzava completamente l'atmosfera club. Continuo a preferire l'originale, ma decisamente molto meglio rispetto ad Alice Remix. Passerei alla terza traccia, Rain on Me, con Ariana Grande, Arca Remix. Io non ho mai ascoltato Arca, però sono tipo un mio amico ossessionato, quindi una volta avevo provato a sentire qualcosa. Aspettiamoci qualcosa di latinoamericano. E con Rain on Me non saprei. C'è questo un po' più evidente, ma i vocals sono totalmente nel back, nello sfondo. Qua abbiamo tipo dei risucchi. Prendelo, prendelo, saccalo, prendelo, saccalo. Prendelo, saccalo? Ma cazzo, cioè non mi metti neanche l'I'm about to fly evidente, ma che è? Ecco è tutto quanto un po' etereal. Arca, ti ho voluto bene per quei tre secondi dell'inizio dove mi avevi un attimo preso con quel prendelo, saccalo. Ma poi è stato tutto un arrivare di roba. Appunto Rain on Me, ma qua stavano piovendo robe. Suoni a destra e a manca? Bah, non lo so. Arriviamo invece adesso finalmente alla quarta traccia Free Woman Remix con Clarence Clarity e Rina Sawayama. Che ragazzi non vedo l'ora di sentire perché mi piace un casino Rina. Quindi sono molto emozionated. Rina Sawayama. Let's go Gaga. Let's go Gaga. Let's go Gaga. Let's go Gaga. I walk the downtown. Remix del genere mi piacciono perché non vanno a stravolgere completamente la canzone. Però la base appunto è portata a un next level. Yes! Ok. Uh, belli questi BAM di chitarra. Yeah! Ragazzi, finalmente avevo già iniziato a pensare al Bless Madonna 2.0 e invece abbiamo trovato un bel remix che mi ha soddisfatto praticamente al cento per cento. Era molto molto figo questo remix ragazzi, salvato assolutamente e ha anche un po' salvato la canzone originale che non era una delle mie preferite. Sono stracurioso di sentire la prossima che è Funtunite, Pablo Vittar Remix. Sto sentendo una fisa armonica. Scusate. Uh, Pablo! Oh, mio Dio! Cos'è questa tromba facciata? Siamo ufficialmente entrati nella parte latina di cromatica. Questa è a un altro livello, la voglio sentire in tutte le sagre, io mi fiondo a ballare. No, no, è tipo stradanto delizia, delizia, I see most semi-matta. No, non finire, è bellissima. Wow, l'originale qua è stata battuta alla grande. Se non vi piace questo remix ragazzi, cioè tipo, giudate il video, cosa devo dirvi. In questa casa stendiamo il Pablo Vittar Remix. Ma adesso, ragazzi, a Dawn of Chromatica c'era anche la Charlie XCX. Siamo pronti per ascoltare la versione di 911 di Charlie XCX, Remix by A.G. Cook. Io dico che sarà una figata. No, vabbè, cioè, le produzioni di Charlie e A.G. Cook con tutti questi... Mi piacciono un casino! Poi ci sono proprio parole nuove, troppe nuove! Oh, questi bassi! Mi raccomando! Senti che sto sentendo! Cazzo, ma fai fare tutto l'album a A.G. Cook e a Pablo Vittar! Carlotta! Yes! No, I'm crying! È stata una figata! Non so se sapete, io ho avuto l'onore di ballare con lei sul palco. Voglio rifarlo, Charlie, però con questa canzone. Cioè, lo facciamo, ci organizziamo, tanto adesso abbiamo il DM in comune. Sì, dai, ti chiamo io, insomma, ci organizziamo e facciamo uno spettacolino con questa. Next one, ragazzi, siamo arrivati a Plastic Doll Remix by Ash Nico. Slumber Party è stata la mia ossessione per non so quanti mesi. Sono molto gasato di sentire questa versione anche perché Plastic Doll è una delle mie canzoni preferite di cromatica ever. Vai con le barre, yes, yes, yes! Work, 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 sis! Il cielo mio, buono! What? Questa, wow! Bellissima, bellissima! Adoro questo build-up del pre-chorus, è bellissimo! Single, single, doppio, doppio! Ragazzi, cioè, gli artisti miei preferiti migliorano le cose! Anyway, andiamo avanti perché adesso arriva Sour Candy with Blackpink. Remix by Shy Girl e Muramasa. Anche qua i bassi sono stati clubbizzati. Avevo sentito parlare di questa Shy Girl e per adesso la zia sta servendo, eh, qua. Oh, mio Dio, è esploso tutto! Raga, vlog perché devo cambiare il cavalletto e si è rotto l'altro. We are back! Since our candy! Cazzo, ma bastava il club! Perché devi metterci questo... Sembra davvero una pulce, un topo che squittisce. Vabbè, passando sopra sta pulce... Yes, la provo! Next one, ragazzi, abbiamo Enigma, remix di Doss, che non ho idea di chi sia. Figo! Sembra un po' Don't Stop Believing! Nella scena, andiamo ben senin! Arriva, arriva e... Oh sì! Parabarabarabarabaraba! Wow! Oh sì, questa è in discoteca, ragazzi. Io parto, io parto. What the fuck is this? La sentite? Well, non male, davvero. Questa, se l'ascoltassi in discoteca, penso che inizierei a ballare non poco. Per me è approved. Ora, ragazzi, ci ricolleghiamo ai miei fav. L'ultima del quintetto sacro. Perché stiamo per andare ad ascoltare Replay, Dorian Electra Remix. Ok. Anche perché Replay è un'altra delle mie canzoni preferite da cromatica. Uh, anche qua abbiamo un beat, mi sa. Ovvio. Uh, bassi qua, va anche qui. Dove sei, Dorian? Un casino, no, raga? Che cazzo! Oh, wow. Yes. Non ho altri commenti. Yes. Adesso direi di passare a Sign From Above con Elton John, che è un'altra delle mie canzoni preferite di cromatica. Secondo me è proprio una di quelle con il build-up migliore. Questo remix è di Chester Lockhart, Moodkiller e Lil Texas Remix. Minchia, quanti? Raga, mi sta esplodendo la cassa. Questo basso è tipo... Mi sta pensando all'originale, infanzi, ma devo coincidermi su questa. Molto figa Figata, sembrano i Remix quelli delle cheerleader Che cazzo? What? Cioè, neanche I Shake It di CharlieX era così incasinata Ok, così Io non capisco perché fare queste cose Siccome dicevo io, questa canzone era divisa in tre parti La prima parte mi è piaciuta molto La seconda, bless madonnosa Bah La terza, particolare Non so neanche esprimermi su quella Direi di passare a Thousand Doves Che penso che sia la canzone davvero meno streammata in assoluto di tutto Cromatica Ditemi se voi ascoltate Thousand Doves, io no Questo è il Planning Truck Remix Uh, ok Facciamo una production molto strana sui vocals Uh, bello Ok 5 minuti di questa cosa Io non ce la facevo ad ascoltarli Cioè, si vede che forse anche Lady Gaga non gliene frega niente di questa canzone Visto che era il remix Per adesso meno caratteristico forse Non lo so Io andrei a Babylon Che ci sono ben due versioni Una che aspettiamo da tipo un anno e mezzo E la prossima Che invece è la Bree Vanway & Jimmy Edgar Remix Yes Ma questi cazzo di bassi da club anni 90 Perché mi piacciono così tanto? Money don't talk Break that song Gossip Bubble on Whatever you like Bubble on Uh Questa versione mi sa di ancora più ball dell'originale Uh Mi piace che abbiano lasciato le trombe dell'originale Oh yeah Questa mi sa che proprio me la salvo Sì, sì, ci piace Siamo arrivati all'ultimissima traccia ragazzi Babylon House Lab Remix Ci siamo È arrivata Ah, così subito Creelie leaks Mi sa che ho sentito troppe fan-made versions Bellissima la base qua Oh Ok Però è arrivata così In maniera non troppo power secondo me Vabbè Mi aspettavo di essere più coinvolto In un certo senso Cioè di gaslarmi di più Insomma Copia una versione fan-made E così ci fai tutti felici Che ormai siamo abituati a quella No Era molto più blanda Anche rispetto alla versione che abbiamo sentito Nei leak Di quando è uscito l'album C'era qualcosa di più sottono Non so se anche per voi è così Va bene ragazzi Siamo arrivati finalmente alla conclusione di questo viaggio Nell'alba di crematica E che dire La maggior parte delle canzoni secondo me è approvata Soprattutto quelle fatte dai miei beniamini Io le ho adorate tutte Secondo me non è un disastro come lo è stato Club Future Nostalgia In generale comunque abbiamo avuto un good time Vedete che abbiamo ballato un bel po' Abbiamo vogato Sì dai Cioè ci siamo divertiti ad ascoltarlo And that's it ragazzi Mi raccomando Voglio sapere la vostra opinione Fatemi sapere Qual è la vostra canzone preferita originale E se siete stati soddisfatti Di come l'hanno adattata Io mi invito a mettere un bel mi piace A iscrivervi al canale E a seguirmi nelle pagine social Che trovate qua sotto in descrizione Noi ci rivediamo Ad un prossimo video E ciao bene